Un giorno un piccolo seme che viveva la sua vita tranquilla e spensierata venne colto da un terribile temporale che lo portò a sprofondare sempre di più nel terreno, sempre più giù in fondo, al buio, al freddo e non vedeva più nulla e la paura prese anche il suo cuore. Ma passati quei giorni dove il buio aveva regnato e la solitudine alzato la sua voce il seme iniziò a sentire che qualcosa stava cambiando e piano piano mise la testa fuori e ogni giorno cresceva sempre di più, sempre di più, sempre di più e le sue forze diventavano tante e le radici prendevano forma e non sentiva più il vento, non lo faceva più tremare. Fino a quando non diventò un albero forte, forte e gli uccelli potranno andare intorno a lui a ripararsi dall'ombra. A volte abbiamo bisogno di passare questi momenti particolari, di solitudine, a volte anche di paura per diventare forti. Non permettiamo alle situazioni di cambiarci e di fermarci, ma usiamole per uscire più forti e coraggiosi in modo che rimanga solo un ricordo, ma la nostra forza sia presente. Fai morire proprio come ha fatto il seme, tutte le delusioni del passato, il rancore, tutto ciò che tira a trista per vivere una vita serena e crescere proprio come un albero.